Quando lavoriamo qua ognuno ha il suo compito precedente. Tu cosa fai? Io niente. No, lui coordina un po'. Quanto ci vuole per preparare un lavoro del genere? Guarda, considerando tutte le sale che abbiamo fatto, compreso il palco fuori, il pallione, eccetera, siamo qua da martedì. Perché di cose in ballo ce ne suona. Stasera suonerà Morgan? Il leadliner della serata è Morgan, con la formazione, con l'orchestra, funzioni molto complesse. E poi ci sono tre situazioni precedenti, Jessica Brando, che è la nuova artista Remy, Dente e Caigo 35. Quindi c'è un po' di tutto, dovrebbe essere una bella serata. Il tempo non ci ha aiutato, perché dovrebbe essere fatto tutto nel palco esterno, più grosso, più bello, più tutto. Ci siamo ritirati qua nel padiglione centrale, speriamo che vada tutto bene. Ma va tutto bene? Va da Dio. Va sempre bene, perfetto. Guarda che vanno giusto. Tu conosci già la scaletta dei brani che era fatta? Solitamente io quanto meno lavoro a braccio, si suol dire, senza sapere bene i brani che ci sono. Nel senso che in base al momento vado, se non ho un direttore di produzione che mi dice fai questo, fai quello. Questo succede nelle situazioni grandi dove ci intrecciano più service, tra cui quello di produzione e quello residente come siamo noi. Il mio lavoro mi piace perché fondamentalmente è sempre nuovo ed è sempre lo stesso. Le luci alla fine sono sempre quelle, però le situazioni sono sempre diverse. Il mio compito è, più che un compito è un ruolo, sono direttore di palco e quindi devo dirigere l'ingresso e le uscite di tutte le produzioni e la movimentazione del backline, strumenti, microfoni, tutto quello che succede sul palco. E quindi devo coordinare le band e fare rispettare soprattutto gli orari di soundcheck e di spettacoli. Un saluto a Musica in Rete! Ciao Musica in Rete! Ciao! Ciao!